Le solite cose che si sentono in televisione, in centri stradali dovuti all'alcol, alle droghe... Sì, le solite cose che le senti, ma tu che ce l'hai davanti, cosa ti succede? Eh, che ce l'hai davanti, noi lo vediamo come una... Cioè, tocchiamo con mano una realtà immediata, no? Dove hai delle sensazioni che dici, ma perché? Cioè, far la fine del ratto, schiacciato tra le lamiere, cioè, è bruttissimo, basta andare un pochino più piano, più cauti sulle strade, e certe cose, secondo me, si possono evitare. Anche se, devo dire, io ho iniziato nell'89 a fare il volontario, poi ho smesso nel 93 come ambulanza e poi sono entrato come maestro artigiano, insegnavo ai ragazzi di strada il lavoro di elettricista in bottega, e poi sono rientrato nel 2005 fino ad oggi e ho visto un cambiamento radicale dopo 11 anni, perché le macchine sono più sicure, c'è meno, secondo me, meno... Quindi nel 93 c'era più rischio? Sì, sì, molto di più, sì, 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 sì. I ragazzi erano anche più fuori di testa, secondo te? Sì, vabbè, negli anni, se lei lo sa meglio di me, era negli anni 80...